Brutta avventura per il consigliere comunale Daniele D'Angelo, imprenditore agricolo e proprietario di un ristorante o con le brincioni colpito dal calcio di un cavallo incustodito. Vivo per miracolo, così ha scritto D'Angelo sui social, mostrando il viso insanguinato e raccontando di essere stato colpito mentre saliva in auto. Il problema è la mancata custodia degli animali. Il proprietario è già stato identificato dai carabinieri che, chiamati dai familiari di D'Angelo, si sono portati subito sul posto. Per D'Angelo l'abbandono degli animali, soprattutto nelle ore notturne, è pratica criminale. Sono anni che si batte per eliminare questa pratica. A questo punto la problematica, essendo lui consigliere comunale, diventa anche politica. L'incidente alla fine si è risolto, ma le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. L'aspetto positivo però è stato quello della solidarietà, perché molti agricoltori e imprenditori si sono offerti di aiutare D'Angelo, viste le sue condizioni. Il consigliere proprio questa mattina ha fatto sapere che i cavalli sono stati portati in un recinto dopo questo spiacevole problema, un fatto che D'Angelo auspica possa scuotere le coscienze. Il problema va avanti da anni, perché questa volta è successo così, ma altre volte sono capitati incidenti stradali, anche gravi, per animali abbandonati in mezzo alla via. Io sono anni che sto cercando di battermi contro l'abbandono e la mancata custodia del bestiame. Spero che questa volta, ma no perché è capitato a me, ma perché fin quando capita a mezzi, a macchine o a cose, diciamo, non che si può chiudere un occhio, però comunque la cosa è più tranquilla. Quando c'è di mezzo la salute umana spero che la cosa possa scuotere le coscienze sia degli allevatori, sia della politica e sia di tutte le forze dell'ordine che, come devo dire, che finalmente potranno iniziare ad avere modo di controllare e di punire i trasgressori. Facciamoci a capire, qua nessuno vuole puntare il dito su nessuno, per carità, perché anch'io sono allevatore e è capitato anche a me che gli animali sono usciti. Però è un conto che un animale può scappare una volta dal recinto, puoi lasciarti un cancello aperto. Ma la prassi, il modus operandi di tanti allevatori che hanno come scopo, diciamo, soltanto l'allevamento senza avere coscienza e custodia del proprio bestiame, deve finire e spero che sia la volta buona che finirà.